si è conclusa l'auditorium loiola del centro congressi trevi la due giorni romana del consiglio nazionale della fiaip la seconda giornata ha visto l'intervento di apertura dei lavori del presidente nazionale giambattista baccarini che ha relazionato sull'attività politico sindacale sulle recenti iniziative della federazione una carrellata che ha passato il rassegno alle sfide affrontate negli ultimi mesi e i temi caldi per la categoria a cominciare dall'atteso decreto salvacasa fino all'imminente entrata in vigore della direttiva ue sulle case green mancano strumenti tempi e risorse per attuare questa transizione ecologica secondo noi va attuato un fondo europeo energetico c'è delle risorse che l'europa dovrà mettere a disposizione una sorta di secondo pnr per la transizione ecologica inoltre vanno allentati in maniera graduale i tempi legati al raggiungimento di questi obiettivi all'interno invece in italia ci vuole una riforma sui bonus fiscali edilizi vanno riordinati armonizzati da 11 a 3 aliquote resi strutturali fino al raggiungimento degli standard minimi energetici e inoltre vanno messi in atto degli strumenti finanziari come le garanzie consaple garanzie dello stato al 100 per cento e dei mutui green cioè a tassi veramente risibili che consentono di accompagnare non obbligare il cittadino appunto a attuare questa transizione ecologica che ripeto è virtuosa sulla direttiva da strasburgo intervenuta Isabella tovaglieri l'esponente leghista è stata tra gli eurodeputati più attivi al parlamento europeo per ottenere le modifiche che hanno rimosso alcuni degli obiettivi critici fissati dal testo iniziale in tema della continua attività legislativa dell'unione europea su aree normative che direttamente o indirettamente incidono sul comparto immobiliare chiara è la posizione della fiaip sul nuovo regolamento europeo in materia di locazioni brevi noi siamo assolutamente d'accordo su quella che è l'intenzione su quelle che sono gli obiettivi del regolamento europeo che sono fondamentalmente quelli di armonizzare le regole in tutta Europa per la raccolta dei dati delle informazioni sulle locazioni turistiche e ovviamente facilitarli poi questi controlli ma dall'altra parte riteniamo che tutto ciò va bene a condizione che non vengano richiesti ulteriori adempimenti o balzelli ripetuti identici rispetto a quelli attuali presenti in Italia visto anche la imminente introduzione del codice identificativo nazionale della banca dati nazionale ecco secondo noi l'istituzione di una banca dati europea così come previsto nel regolamento europeo e di un codice unico europeo va benissimo perché nel momento in cui vengono dati e forniti le informazioni dei dati alla banca europea questa sia questa a poi inoltrare digitalmente queste dati e informazioni a tutte le altre banche dati quindi a quella italiana piuttosto che le piattaforme delle regioni dei comuni della questura dell'agenzia delle entrate un programma denso e serrato che ha visto il susseguirsi delle votazioni tra cui l'approvazione del bilancio e degli interventi di delegati e dirigenti tra i più attesi quello di paolo righi founder axilia finance e pass presidente di fiaip che ha relazionato sull'andamento complessivo delle società controllate dell'ecosistema fiaip all'interno del quale spiccano i nuovi progetti cerca casa punto it e fiaip monitora Italia il segretario nazionale fabrizio segalerba è intervenuto invece sul progetto di marketing fiaip extra e sullo stato del tesseramento è il settimo anno consecutivo di crescita del numero degli associati quindi il fatto che nuovi agenti immobiliari entrino in fiaip è sicuramente per noi premiante è una delle cose più belle vedere che ogni anno aumentano coloro che credono in fiaip e soprattutto aumentano le nuove generazioni senza dimenticare quello che è il mantenimento dei propri associati e questo avviene grazie al lavoro strepitoso che viene fatto costantemente sui territori si è parlato anche di accesso alla professione formazione continua in compatibilità e contrasto all'abusivismo nell'intermediazione immobiliare la tutela del consumatore da sempre centrale per la federazione come conferma l'annunciato accordo tra auxilia finance e adconsum il vicepresidente nazionale vicario marco grumetti ha parlato proprio delle azioni che fiaip continua a mettere in campo per arginare l'esercizio abusivo della professione il primo messaggio è che chiunque entra in contatto per l'acquisto di un immobile con un mediatore presunto quindi non abilitato alla professione ha il diritto a non pagare le provvigioni e se le ha corrisposte come prevede la legge può averle in restituzione il secondo messaggio è che chiunque entra in contatto con un soggetto abusivo quindi non abilitato alla professione decide di acquistare o di locare un immobile di farsi valutare un immobile da una persona che non ne ha le competenze all'acquisto della casa deve essere un passaggio della vita in cui una persona fa con le giuste informazioni il debitamento o l'investimento futuro molto applaudito anche la presenza di fiaip donna a testimonianza del crescente protagonismo del segmento rosa della federazione dal palco romano cristina genovese ha raccontato la sua esperienza di imprenditrice virtuosa innovativa grazie ai fondi messi a disposizione del pnr fondi europei fare impresa rosa oggi diventa più agevole e con fiaip donna abbiamo preso subito al balzo questa opportunità da condividere con le nostre associate non solo associate ma anche i nostri associati che all'interno della loro agenzia o comunque del nucleo famiglia hanno degli elementi femminili da poter utilizzare per sviluppare nuovi progetti di impresa altro passaggio importante del presidente baccarini quello sulle proposte fiaip al ddl lavoro per la modifica del decreto bersani visco e dell'obbligo di evidenza pubblica in atto notarile della provvigione dell'agenzia condividiamo assolutamente la sostituzione integrale diciamo in atto notarile dell'importo dell'ammontare della nostra provvisione con il numero della fattura considerato che dal primo gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica anche soprattutto per tutti i titolari di partita iva anche quelli sotto con ricavi sotto i 25 mila euro però ecco stiamo provando l'alternatività proprio lasciando decidere al cittadino se indicare in atto notarile l'importo oppure il numero della fattura il nostro emendamento ora è sotto il parere del mef che auspichiamo essere favorevole il futuro anche per fiaip dovrà essere sempre più digitalizzato e sostenibile in questa chiave il presidente baccarini ha annunciato il lancio di un nuovo importante progetto stiamo mettendo proprio in campo un progetto che viene e verrà denominato digital green agent che è un progetto che vuole come dire dare una certificazione all'agente immobiliare che utilizza strumenti nell'ottica green strumenti ovviamente digitali come la registrazione telematica dei contratti di locazione come la piattaforma antireciclaggio come la firma digitale con riconoscimento a distanza quindi meno consumo di co2 nello spostarsi utilizzando strumenti digitali ma anche meno carta meno inchiostro inchiostro e quindi diciamo un'ottica diciamo di paperless che va nella direzione appunto di salvaguardare l'ambiente ma anche di salvaguardare la tutela del consumatore Grazie a tutti